Più forza alla cultura, più libri sui territori, con le regioni che possono essere protagoniste delle politiche per la promozione della lettura. Con questo spirito l'Aquila ha ospitato gli stati generali dei patti per la lettura promossi dal Ministero nella città che si appresta nel 2026 ad essere capitale italiana della cultura e anche candidata come l'Aquila città che legge. Una manifestazione che dal 2021, il centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dedica alla rete dei patti per la lettura per stimolare una riflessione pubblica. Il patto è diventato un requisito per la concessione della qualifica di città che legge. Gli stati generali che giungono alla quarta edizione sono l'occasione anche per tracciare un bilancio. In particolare l'edizione 2024 focalizza l'attenzione sulle regioni come istituzione centrale per una programmazione più capillare delle politiche per la lettura. Giornate nelle quali si sono alternati autori, esperti e politici con tutte le principali istituzioni culturali abruzzesi. L'Aquila è quella che ne ha di più, seduti attorno allo stesso tabolo. Lo stato generale è sicuramente, i numeri sono sicuramente migliorabili. I dati più recenti ci dicono che a livello nazionale insomma la percentuale di chi ha letto almeno un libro l'anno è intorno al 40 per cento con uno scarto significativo quando si scende nel meridione, nel mezzogiorno Italia, almeno 10 punti percentuali in meno. Quindi una situazione che va sicuramente attenzionata, aggredita con tutti gli strumenti sia centrali che locali possibili. Nello specifico noi puntiamo su questi patti per la lettura che sono uno strumento, un patto vero e proprio, un'intesa che le amministrazioni meritevoli, insomma particolarmente effervescenti sul piano culturale, insieme a noi creano con tutte le forze culturalmente attive sul territorio. Oggi vanno di moda molto gli ebook, strumenti da non demonizzare, i due mondi devono coesistere. L'ebook si è rivelato comunque una leva importante soprattutto per le nuove generazioni per avvicinare i ragazzi al mondo del libro comunque ha delle facilities incontestabili, il fatto che comunque in un lettore di ebook uno può portarsi un'intera biblioteca quindi in viaggio durante i momenti di vacanza che sono comunque dei momenti sottratti al quotidiano, allo spazio lavorativo che ci permettono di approfondire autori, di approfondire storie, di perderci nelle storie che i libri raccontano. Quindi sicuramente sono due mondi che devono interagire e devono convivere.